Bella a tutti ragazzi, qua è Filippo TV TV che vi parla e oggi siamo su un nuovo video su GTA, come ben vedete. Io oggi non vi faccio vedere la mia faccia ma spero che questo video vi piaccia. Beh, quindi lo farò abbastanza corto mi sa perché ragazzi facciamo che vi salto finché non arriva, non sentiamo nel gioco, ciao ci vediamo, per voi è un secondo, per voi è un secondo, invece per me è tanto. Eccoci qua ragazzi, ben vedete, siamo già nel gioco. Oggi come avrete letto ben dal titolo, oggi per la radio perché è un'educazione durante il gameplay, oggi faremo metà, metà, e mi si dice metà il gameplay, metà il racconto. E' uguale, facciamo le rapine comunque, perché giustamente dentro le rapine c'è anche il cazzeccio, non credete? Quindi oggi voglio fare questo momento, avevo già fatto un video, una settimana fa non mi ricordo, mi vogliono rifare perché voglio che vi scrivi, no niente niente, sto parlando? Ando, beh, voglio dire anche buona visione di questo vero cazzeggio, non parlerò tanto ma, non parlerò tanto, ecco, punto. Ora sto andando dal negoziante, la frezza dovete mettere. Ma è bacio! D'acqua, bum, c'è atomico. C'è atomico. L'idea come posizione di fuga. Intanto come un pum, perché si spaventa. Ma dovrò così, voglio dire che poi dovete dargli un colpo contro qualcosa vicino a lui, che si spaventa. muori malissimo nella fuga non godere la terra guardate giù al ponte anche spero che mi piaccia questo gameplay ma che muo' ma che vuole ho fatto che vuole ho fatto ma che vuole ho fatto io ma che vuole ho fatto ho messo il trucco mi metto anche il super salto allora scrivetemi anche dopo nei commenti viva i trucchi e si fottili sbirri soggetti a vero ragazzi lasciate un bel mi piace se sono io e te siete com'è nell'idea vedete il super salto ma lei muore pericoloso ma cosa vuole ma che ti caga ma che ti caga stupido idiota che c'era del perro con il bici 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 salve un giorno anche lei con lui bello questo perro non è che c'era non è che c'era il bici ma che ti c'era un bel premonto ma io ho prendo il bici un bel premonto un bel premonto mi servirebbe a me una moto veloce ma da comprare oh ma dai pensavo di passarci vabbè basta parlare in ciance va a giocare in ciance vedo pure estrema sarà il bambino oh scusa aspetta la c'è una gara di moto se io rubassimo una e se facevamo una gara noi invece facevamo una garetta che una volta io l'ho fatta l'ho perso, una volta io l'avevo vinta, un'altra, ci dava 1000 euro, magari qua ne dà di più guardo prima se c'era, scusa è un fatto andiamo un po' in l'acqua e ritorniamo, ne ho terminato di scendere qua tutto suono, adesso che c'ho la moto ce ne sono qua aspetta che prima mi puro aspetta che eri ma dai ma perchè tutti così via tutti i trucchi uno e due aspetta come ti faccio? ve ne lascio ancora ve ne andiamo spero che vi stia piacendo, se vi sta piacendo lasciate un bel like si voglio giocare, questi soli li spendo perchè io sono scendere sei fenomeno te ma non so sai ma dove vai ma dove va comunque il ce tutto è uguale ma io sono la gi ma sono scemi sono quarto è incredibile che sono secondo ma io lo vado eeeh che curva no no ma col traffico sono sono bravo ma non si vede niente con questo il ralentatore sei gut stupido idiota eeeh se cado giuro what si tiene il ralentatore non cadere non cadere non cadere non cadere ma che bravo che scende non cadere ma penso se io stagarsi faceva di giorno già morivi sarà un giro o ci saranno due ormai quelli li abbiamo distanziato non so se guardiamo non è proprio il massimo queste moto sono andate per i passi perché c'è tipo rucchi cosa e bla 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 eeeh 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 vaaa si ferma e gira con una meraviglia guardatelo eh si gira con una meraviglia ma anche un po' di gatti si gira così comunque due giri beh tanto non 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 metto anche le curve e poneste curve non di queste ma che bella penso vedi andarli contro comunque quei rimbombiti sono là ma sono un bravo civile perché è Filippo un bravo civile perché è Filippo un bravo civile perché è Filippo un bravo civile guarda come conclude perché è Filippo un bravo civile quando si diverti il tempo passa in fretta quindi ma che bello troia tro 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 troia ehi puttana me puttana ha fatto mille euro per questa cara no oh no signora signora ciao ciao oh foto usa dai ragazzi facciamo un piccolo cazzeggio dai 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 che non passa nessuno oh che cazzo 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 hotel ragazzi ragazzi tu scemi non pre no sono chi è un speedy ma da qua come l'arma quindi ragazzi spero che il video di oggi sia piaciuto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina e lasciate un bel mi piace ciao